Scoppia il portellone di emergenza, Alaska Airlines ferma tutti i Boeing 737. La compagnia aerea americana Alaska Airlines ha fermato tutti i suoi 65 aerei Boeing 737. Dopo che uno di essi è stato costretto a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Portland. In seguito allo scoppio di un portellone poco dopo il decollo, senza vittime. A seguito di quanto accaduto sul volo 1282. Abbiamo deciso come misura precauzionale di tenere a terra la nostra flotta di aerei 65 Boeing 737. Ha dichiarato il CEO di Alaska Airlines, ben minicucci. Ogni velivolo verrà riportato in servizio solo dopo che saranno completate tutte. Le nostre ispezioni di sicurezza e manutenzione, ha aggiunto minicucci. Spiegando che i controlli dureranno alcuni giorni.